e c'era questo carabiniere col collega che si presentano in caserma con una scimmia no giustamente questa scimmia andiamo al maresciallo dice che state facendo comanda maresciallo abbiamo trovato questa scimmia mentre eravamo in bell'ultrazione che la buttare sto cazzo? va bene comanda maresciallo e se ne va dopo due ore chi ritorna incontro maresciallo dice appuntato venga qua c'è la scimmia come finiva? maresciallo comandi la buttiamo o zoo? s'ha diventito guarda come a fare ma no